Dopo il primo posto di Rino Sallustro a Budva, il sesto di Nello Durante a campione, Gabriele Immorlano a regalare un altro grande risultato alla Multipla Poker Room. Il player di Grosseto, che fa parte del team Rewin, chiude al terzo posto il PPT di San Venzan, primo appuntamento del circuito Peoples per la stagione 2012. Dopo aver condotto a lungo il torneo come chip leader e aver iniziato il final table televisivo con lo stack maggiore, Immorlano celebra la meritata vetrina di Italia 1 e di Poker 1 Mania con un premio di 64.800 euro. La vittoria, la prima moneta da 170.000 euro, vanno al giovane 19enne Aquilano Damiano Sette, che vince il Let's Up su Paolo Petrucci. 64.800 euro è il premio che aspetta il terzo l'assificato del PPT San Venzan 2012, Gabriele Immorlano del team Rewin, che ha già il bicchiere in mano giustamente per brindare. Complimenti Gabriele. Grazie, grazie, grazie. Un grandissimo torneo, sei stato chip leader dei due e dei tre, oggi un final table molto difficile, sei stato attendista, hai visto poche carte, però insomma alla fine sei salito sul podio. Ci speravo, dopo il dei due e dei tre ci speravo, perché comunque giocavo bene, le carte non mi hanno premiato, poi Damiano ha fatto il vuoto, io ho perso un colpo assurdo su uno che era tiltato, ho fatto instant o donna 8, una mano marginale su 5 e 7, era in tilt, quindi sapevo di partire davanti, andavo a 3 milioni e mezzo, player out e tutto, apprescavo il 5 e poi l'ha regalata a Damiano, però va bene, alla fine sei comunque rimasti 6 credo e arrivo a terzo, va bene. Non vedi l'ora di tornare a Grosseto a festeggiare di la verità? Assolutamente sì, domani sera ho pilotato un ristorante intero, quindi un pochino mi costerà. E allora, beh, però diciamo il portafoglio è bello gonfio dopo questa tappa. Sì, infatti ora posso prendere l'assegno e poi mi vado un po' a rilassare con la mia amica. In bocca al lupo, grazie. Grazie a voi. Tira sul bicchiere, ecco qua, salute. Alla salute di Gabriele. Io dico sempre una cosa per chiudere, champagne per grindare a un incontro, non brindare.